Giacomo Gentile fa parte del direttivo della Proloco di Nereto, Proloco che ha organizzato la Sagra del Tacchino alla Neretese. Esatto, questo è il settimo anno, siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione e abbiamo mandato il tentone in Piazza Cavour, quindi dopo Turisti per Gusto che ci ha visto valorizzare le due tipicità neretesi, quali Tacchino e Capra, adesso portiamo in campo esclusivamente il Tacchino, abbiamo iniziato ieri sera con la Sagra, saranno quattro giorni all'insegna del gusto, quindi con la promozione e la valorizzazione del piatto tipico. Quali sono le caratteristiche del Tacchino alla Neretese? Beh allora, questa è una ricetta che si tramanda ormai da generazioni e su questo punto dobbiamo un attimo puntare perché c'è il Circo Lanziano, l'esempio che c'è sempre una mano nella fase di realizzazione del Tacchino, quindi dalla cottura a tutta la preparazione e dobbiamo puntare anche con la Proloco appunto nel tramandare questa ricetta affinché le nuove generazioni possono continuare poi dopo a saper cucinare questa tipicità e quindi poi poter realizzare la Sagra. Quindi invitiamo tutti quanti questa sera fino a domenica a finirci a trovare la palatenda della Proloco in Piazza Cavour a degustare il Tacchino alla Neretese ma anche tante altre specialità e anche insomma il vino nuovo e qualsiasi altro piatto vibratiano.